Bella Adida Bella Adida, sì! Look per il party di compleanno Il nero sta bene a tutte, ma addosso a una supermodella ovviamente l'effetto è stratosferico, e non c'è altro aggettivo per descrivere Bella Adida al party del suo ventunesimo compleanno. Lo sguardo è ammaliante, il fisico super sexy e il vestito meraviglioso come al solito, ecco la bella Adida alla festa di compleanno per festeggiare i suoi 21 anni, con gli amici e i parenti più cari. Tessuto aderente, spacco laterale fino alla vita e scollo importante, la modella è elegante e sensuale come al solito. Bella Adida ha organizzato il suo party di compleanno in uno dei locali più esclusivi di New York e anche il suo look ovviamente è stato pensato ad arte per essere indimenticabile e al top. Prima una cena in famiglia con l'inseparabile sorella Gigi, vestita di azzurro per l'occasione, la mamma Yolanda e il papà Mohamed, poi, uno scatenato party con gli amici più cari, a corsi per salutare la modella e socialite più famosa del mondo. Un momento. Indovinate? La festa sarebbe stata organizzata nientemeno che da Drake, ex fidanzato storico di Rihanna e presunta nuova fiamma di Bella Adida. Ha organizzato e pagato tutto lui, ha detto una fonte vicina alla Itagil. E, a quanto pare, l'evento è stato davvero indimenticabile. Gli auguri speciali di Gigi. Diverse sono state le star che hanno voluto fare gli auguri a Bella Adida in un modo davvero speciale. Da Kendall Jenner, che ha pubblicato su Instagram una foto dell'amica scattata proprio da lei, alla sorella Gigi Adid, che ha omaggiato la socialite con delle immagini che le raffigurano quando erano ancora delle bambine. Buon ventunesimo compleanno mia angelica sorella. Non ci sono parole per descrivere l'amore che provo per te. Sai che ho sempre cercato di proteggerti dal mondo sin dal tuo primo giorno di vita, e 21 anni dopo mi conforti e ispiri più di quanto tu possa immaginare. Hai sempre camminato secondo il tuo ritmo, e mi hai reso immensamente orgogliosa. Sei affettuosa, gentile, perseverante e sempre cool. Hai il potere di provare empatia con chiunque e amare sempre e comunque, e rendi felici molte persone con il tuo comportamento. Questo è il bellaugurio che Gigi Adid ha riservato a Bella, e che ha commosso moltissime persone che hanno avuto la fortuna di leggere le sue meravigliose parole. Oltre al presunto flirt dracche, nessun fidanzato c'è all'orizzonte per Bella Adid. La modella è single da quando la sua storia d'amore conteve e c'è giunta al termine, lasciandola con il cuore spezzato. I primi tempi sono stati molto duri per la modella, che ha sofferto molto per l'abbandono da parte del suo ex, soprattutto quando lui si è rifatto una vita con la pop star Selena Gomez. Sembra che Bella fesse così contrariata, che sia dovuta intervenire Gigi per calmare le acque ed evitare succedesse un putiferio, adesso le cose sono cambiate, e la Itagir l'ha acquisito una calma interiore che l'ha portata a crescere molto e ad apprezzare tutto quello che ha. Il fidanzato? Prima o poi arriverà. Il fidanzato?